Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche così da ricevere tutte le novità ed esclusive relative al meteo in Italia, momento per momento, e grazie, se, come vedete nella foto qui di fronte in esclusiva, nei prossimi giorni l'Italia attenderà quantità enormi di pioggia, come potete vedere sulla mappa. Il colore nero copre tutte le regioni del nord da est a ovest e questo simboleggia quantità di pioggia che superano i 250 mm. Per quanto riguarda il resto delle regioni centrali, riceveranno quantità nell'intervallo di 140 mm e in misura minore aree separate dal sud tra 5 fino a 50 mm e questo da venerdì 30 giugno 2023 fino almeno al 5 luglio 2023 che l'inverno tornerà improvviso e prepotente in tutte le regioni del nord e del centro Italia, con piogge, temporali, grandinate di piccole e grandi dimensioni, semialluvioni confermato, colpirà diverse zone, di cui vi parleremo nello specifico nel prossimo video e tutto quello che possiamo dirvi in questo video che è prepararvi al violento ritorno del maltempo in Italia alla fine di questa settimana e all'inizio della prossima settimana e vi forniremo altri bollettini di allerta per le prossime ore e alla fine che siate in buona salute.